Ciao, benvenuti! In questo corso di pittura vi insegnerò a dipingere sulla pasta di zucchero. Quello che vedremo insieme sarà in prima cosa come passare un disegno dalla carta alla pasta di zucchero. Dopodiché vedremo insieme i vari tipi di pennelli, le varie tecniche per ottenere diversi effetti. Vedremo insieme quali sono i prodotti migliori per la pittura a seconda del risultato che volete ottenere. Dopodiché procederemo allo studio delle zone d'ombra e dei punti luce, tutto per esaltare al massimo il nostro disegno. Alla fine otterrete un bellissimo disegno con un effetto estremamente tridimensionale, con pochissime semplici mosse. E' importante dire che non è necessario saper disegnare per poter dipingere su pasta di zucchero, basta solo conoscere la tecnica. Cosa aspettiamo? Cominciamo? Buon lavoro! A presto!